Militari della Compagnia e della Guardia di Finanza di Sciacca hanno dato esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di numerosi conti correnti bancari nonché fondi di risparmio intestati ad un notaio costudio nel distretto di Egricento Sciacca. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica. Le fiamme gialle, a seguito di una complessa e articolata attività investigativa, hanno individuato il meccanismo di una truffa sistematicamente compiuta dal pubblico ufficiale a danno di numerosi clienti dal 2012 fino al 2017. In particolare, il professionista, a seguito delle prestazioni rese ai clienti, ad esempio per la stipula di atti, quali compravendite immobiliari, successioni, donazioni, emetteva la fattura indicando due voci ben distinte. La prima è inerente all'onorario professionale, sempre di basso importo, soggetta a tassazione. La seconda, esclusa dalla base imponibile, relativa agli importi trattenuti a nome per conto del cliente, ricomprendenti le imposte da versare all'erario, tasse notarili e eventuali ulteriori costi sostenuti. Ebbene, dagli accertamenti eseguiti è emerso che la somma che il notaio ci faceva consegnare dai clienti per gli asseriti ad ambimenti fiscali era notevolmente superiore alle imposte catastali ipotecarie di registro che avrebbe dovuto versare al visco. Pertanto, quello che all'apparenza sembrava un normale documento fiscale, nascondeva in realtà un vero e proprio artificio che permetteva al professionista di trattenere per sé la parte della somma versata dal cliente, ma in realtà non dovuta. Il sistema posto in essere si rilevava di difficile individuazione per i clienti in quanto le somme effettivamente dovute all'erario venivano versate dal notaio e la consegna al professionista degli importi da quest'ultimo indicati in fattura, quali obblighi fiscali, avvenivano nell'assoluta convinzione e fiducia che queste fossero quelle corrette. Le indagini della Compagnia della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Sciacca, sono consistite nell'esame di ingente e mole di documentazione contabile ed extracontabile del professionista e in una complessa attività di riscontro tramite accertamenti presso l'Agenzia delle Entrate. Sono stati quindi individuati oltre 2.000 casi in cui il meccanismo è stato posto in essere dal notaio in danno dei suoi clienti, persone e società residenti e operanti per lo più nell'agrigentino, tra questi professionisti, dipendenti pubblici, comuni, piccole società di piccole e grandi dimensioni.